e allora sei pronto a stravolgere completamente le tue idee sulla sicurezza del pc molto bene perché proprio oggi andremo a fare un'analisi di quello che è il mercato degli antivirus gratuiti del 2025 ne sceglieremo 5, stileremo una classifica più oggettiva possibile per incoronare quale tra loro è il migliore in assoluto e piccola chicca finale ci sarà anche una sorpresina e quindi se ti senti pronto iniziamo e no che non ci possiamo dimenticare di loro e allora procediamo senza meno con il nostro consueto rituale apotropaico per tenere a bada le simpaticissime divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va oh e finalmente eccoci qua come detto in apertura ho cercato di stilare una classifica più obiettiva possibile e per farlo mi sono basato su cinque parametri o meglio ancora su tre parametri più due per un motivo che ti spiegherò tra un attimo i primi tre parametri che ho considerato sono innanzitutto l'efficacia dell'antivirus o anti malware che dir si voglia perché naturalmente un anti malware che non è in grado di tenere a bada le minacce prima che queste si affaccino sulla porta del nostro sistema oppure nel caso peggiore di rimuoverle quando queste dovessero essere entrate non è neanche da prendere in considerazione il secondo parametro è l'impatto sulle risorse del nostro pc questo è un parametro importantissimo perché naturalmente un anti malware che impatta eccessivamente e rallenta il nostro pc è tutto sommato non troppo peggio di un malware stesso il terzo parametro importantissimo che ci ha flagellato durante tutto il 2024 è il tasso di falsi positivi individuati ormai siamo pieni di antivirus e anti malware che hanno paura letteralmente di tutto sono eccessivamente fifoni e nel dubbio marcano come potenzialmente infetta qualsiasi cosa non facendoci di fatto lavorare nello stesso modo altri due parametri importantissimi ma che ho messo per ultimi perché questi sono stati alla base della prima scrematura che ho fatto tra i vari antivirus sono innanzitutto la frequenza degli aggiornamenti che deve essere quanto meno quotidiana perché le minacce come abbiamo visto vengono fuori di giorno in giorno e noi dobbiamo essere sempre preparati ed al quinto posto l'usabilità dell'antivirus ovvero la semplicità della sua interfaccia in modo da poter utilizzare tranquillamente l'antivirus capendo esattamente che cosa stiamo facendo ma quali sono i 5 antivirus che hanno superato questa prima scrematura beh te li faccio vedere subito ed eccoli qui i nostri 5 finalisti che vado immediatamente a presentarti partiamo da Kaspersky Security Cloud Free continuiamo con Windows Defender o Microsoft Defender che dir si voglia a seguire abbiamo Avast Free Antivirus poi Bit Defender Antivirus Free Edition e terminiamo con Sophos Home Free per quanto concerne invece la classifica come puoi vedere è suddivisa in 5 posti e partendo dall'ultimo che sarebbe la posizione D andremo a salire alle voci C, B ed A fino ad individuare il vincitore assoluto che si piazzerà al primo posto individuato con la lettera S ma adesso non perdiamo neanche un attimo e andiamo immediatamente a vedere chi si è classificato al quinto posto e soprattutto perché e lo facciamo con l'ausilio di uno dei miei mitici foglietti su cui ho condensato sostanzialmente un anno di osservazioni sui vari antivirus ebbene ti annuncio che la quinta posizione è occupata proprio da lui Avast Free Antivirus un antivirus che ha una serie di frecce al suo arco anche non indifferenti come ad esempio una protezione molto solida perché è molto efficace contro le minacce tradizionali ed in particolare contro virus, malware in genere e ransomware in particolare come se non bastasse Avast offre una serie di funzionalità extra come ad esempio il gestore delle password non assolutamente comuni sugli antivirus gratuiti infine va aggiunto anche che la sua interfaccia è una delle più user friendly in assoluto e infatti consente una semplicissima gestione di questo strumento e una semplicità assoluta nel trovare le voci principali come ad esempio la quarantena tuttavia Avast ha anche dei nei piuttosto importanti a suo carico che gli hanno valso questa posizione non proprio gratificante innanzitutto la sua pesantezza sul sistema ben inteso non è che sia uno degli antivirus più pesanti in assoluto però è in grado sicuramente di strangolare una macchina che parte già con delle prestazioni piuttosto scarse ma anche di rallentare alcune macchine che si trovano diciamo nella fascia media inoltre è uno di quelli che hanno prodotto nel tempo una delle quantità maggiori se non la maggiore in assoluto di falsi positivi una cosa estremamente fastidiosa comune a tutti quanti quegli antivirus che io definisco fifoni che piuttosto che prendere una posizione condannano qualsiasi file non riescano a riconoscere ma c'è un'altra cosa che ha fruttato ad Avast la quinta posizione ed è la sua pessima reputazione reputazione che si è guadagnato circa un anno fa grazie ad una pessima idea avuta dai suoi gestori si è infatti come puoi leggere negli articoli che ti sto mostrando brevemente sostanzialmente venduto i dati dei suoi clienti pare che la situazione nel frattempo sia cambiata ma per quanto mi concerne Avast rimane uno dei sorvegliati speciali e veniamo alla quarta posizione della nostra classifica che vediamo occupata da lui il nostro Sophos Home Free un antivirus che presenta sicuramente dei vantaggi perché ha una discreta protezione in particolar modo nei confronti delle minacce online ed è un antivirus decisamente leggero infatti a differenza di Avast può essere fatto girare anche su macchine vecchie o poco performanti inoltre offre una discreta gestibilità perché grazie ad un'interfaccia online ci consente di gestire fino a tre dispositivi contemporaneamente ha anche delle pecche piuttosto importanti innanzitutto ha delle funzionalità veramente ridotte all'osso a differenza degli altri suoi competitor di questa classifica che ne hanno decisamente di più ma anche offre un discreto tallone di Achille per le nostre macchine per via di una scarsità di rilevamenti ci sono insomma delle minacce che proprio non riesce assolutamente ad individuare e che purtroppo passano questo antivirus tanto che ero quasi tentato di metterlo in quinta posizione come se questo non bastasse e flagellato da una serie di annunci pubblicitari che cercano di convincere l'utente a passare alla versione a pagamento no buono veniamo alla nostra medaglia di bronzo del giorno ovvero alla terza posizione che viene occupata da lui ho utilizzato un'iconcina un po' vecchia ma sicuramente non faticherai a capire che si tratta di Kaspersky Security Cloud Free Edition un antivirus che offre una capacità di rilevamento dei virus veramente stellare che ha probabilmente il miglior rilevamento in tempo reale di tutti quanti i suoi competitor e che inoltre è estremamente leggero e poco impattante sul sistema cosa che lo rende adatto ad essere installato anche su macchine più vecchie oppure meno performanti ma allora perché Kaspersky occupa solo la terza posizione? beh, a parte tutte le critiche che gli sono state rivolte in passato di connivenze con l'FSB che sono state chiarite direttamente da Kaspersky in persona e che non rappresentano sicuramente più un problema c'è da dire che questo antivirus nella sua versione gratuita è veramente ridotto all'osso e manca di molte altre funzionalità che invece gli antivirus di questa classifica offrono ma la cosa peggiore è purtroppo la quantità di falsi positivi individuati da Kaspersky che lo ha letteralmente penalizzato dal primo al terzo posto di questa classifica ed anche quest'anno a contendersi il primo posto sono rimasti loro due Bitdefender e Microsoft Defender quale dei due vincerà? lo scopriamo tra un attimo ma prima lasciamo un piccolo spazio allo sponsor del video di oggi che ha qualcosa da dirci si tratta di Aulab e c'è anche qualcosa di gratuito se stai cercando un cambio di vita o di carriera e ti piace l'informatica beh, allora lo sponsor di oggi potrebbe fare proprio al caso tuo sto parlando di Aulab la prima tech school in Italia ad aver importato dagli USA il modello dei coding bootcamp Aulab infatti è specializzata in formazione nel campo digitale e tecnologico oltre 10.000 studenti si sono affidati ad Aulab per dare una svolta alla propria carriera nel settore tecnologico e in particolare nel campo della programmazione beh, oltre il 90% di loro sappi che lo ha già fatto con successo l'approccio di Aulab è fortemente basato sulla pratica e sull'imparare facendo piuttosto che sulla semplice teoria le lezioni si svolgono online in live streaming con il supporto costante dei docenti che sono sempre a tua disposizione e ti accompagnano durante tutto quanto il percorso è proprio come lavorare in azienda ogni settimana ti vengono assegnate delle esercitazioni pratiche e durante le ultime settimane svilupperai un portale di annunci in team utilizzando le metodologie agili quando entrerai in azienda avrai già il mindset e le competenze per affrontare tutte le sfide che incontrerai alcuni dei corsi più popolari di Aulab sono quello di data analyst di sviluppatore web e non ultimo quello di esperto di intelligenza artificiale per saperne di più ti metto il link ad Aulab sotto in descrizione e nel primo commento sotto questo video ti consiglio sicuramente di farti un giro nel loro sito che è veramente ben fatto e con descrizioni dettagliatissime per ognuno dei loro corsi buono studio con Aulab e proseguiamo e nel ringraziare Aulab che ci ha voluti sponsorizzare veniamo al momento clou della nostra classifica che quest'anno vede un piccolo ribaltamento infatti al secondo posto si piazza lui il nostro Microsoft Defender un antivirus che conosciamo tutti quanti benissimo che sappiamo che è integrato nel sistema che ha un basso impatto in termini di risorse hardware e che sicuramente viene sempre migliorato da Microsoft ma che è sceso di una posizione per dei motivi assolutamente validi innanzitutto Microsoft ha veramente stufato con la quantità di falsi positivi che rileva a pieso spinto si tratta di un antivirus che ha letteralmente paura della propria ombra ma soprattutto per il fatto che recentemente ha mostrato delle difficoltà a riconoscere dei veri positivi lasciandoli passare come se niente fosse e a questo punto direi che non è assolutamente un mistero che la nostra medaglia d'oro se l'è guadagnata Bitdefender Antivirus Free Edition un antivirus che offre una protezione veramente al top contro malware, ransomware e phishing che inoltre è leggerissimo pesa poco sui nostri sistemi al punto che può essere installato praticamente su qualsiasi macchina ma attenzione come se non bastasse rileva pochissimi falsi positivi il che per me è veramente un sospiro di sollievo e se proprio volessimo invece trovargli un difetto potremmo addebitargli il fatto che non offre un'estensione per il nostro browser per quanto concerne la protezione web se desideri installare Bitdefender sul tuo computer puoi farlo anche sul sito della nostra community l'indirizzo è questo qui gentiluomodigitale.it e una volta arrivato sul sito tutto ciò che dovrai fare sarà cliccare qui in alto a destra sulla lente di ingrandimento e nella barra di ricerca andare a digitare Bitdefender ti basterà successivamente premere invio vedrai che ti comparirà Bitdefender Antivirus non fare caso alla data perché questa è la data in cui è stato caricato per la prima volta ma la versione che ci trovi è quella aggiornata e facendo clic sul nome lo scaricherai direttamente sul tuo pc una volta scaricato il file se vorrai vedere una guida completa su come configurarlo ed installarlo te la lascio linkata qui in alto dato che ne abbiamo parlato in un video precedente e siccome ridendo e scherzando sono riuscito a fare tardi passo direttamente ai ringraziamenti del giorno con l'ausilio di un altro mitico foglietto ringraziamenti che quest'oggi vanno a The Marker Pizza mannaggia a te c'ha il nome scritto in giapponese e in cinese per capire chi eri ho dovuto fare le capriole rovesciate a Francesco Maggiolino a Giuseppe Velardo a Roberto Bellomi e a Gustavo Poggio che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini ed è quindi con estremo piacere che vi do il mio personalissimo benvenuti o ben rimasti a bordo a seconda dei casi ma ancora dei ringraziamenti davvero specialissimi vanno a Enrico Iaci il mitico Petrus e a Fabrizio Fogagnolo che con i loro super grazie hanno voluto sostenere la nostra community vi ringrazio infinitamente per la vostra gentilezza e anche per il vostro supporto ma un ultimo importantissimo fondamentale ringraziamento va proprio a te mio caro gente che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima